musica 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 aeree ho fatto anche tutte le foto molto compromettente del tipo eh sono compromettenti ragazzi 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 guarda che cosa tu vuoi che cazzo era? era dentro la tenda era mia non lo so ragazzi sono dentro la tenda ho visto la tenda delle foto non lo so questo è un po' come mi ricordo io direi di guardarle una immaginione e mai più allora le guardiamo una volta una volta e le cancelliamo quella è la seconda che avete detto Cristo però io l'ho fatta ma non mi ricordo che avete fatto facceli vedere oh cavolo Cristo oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti